bella a tutti ragazzi ben ritrovati in questo nuovissimo video sono tony rosa nero e sono qui pronto per mostrarvi un nuovo completo baggato ovviamente ragazzi lo faccio nel mio ufficio ragazzi iscrivetevi al canale ovviamente dei miei amici ispasciati ragazzi ovviamente il capo della crew il capo della crew è lui sole 121 casa 46 ragazzi detto anche giovanni ragazzi banda gli indugi vi faccio vedere il completo baggato tutto quello che dovete fare ragazzi se non possedete l'ufficio lo potete fare anche nella casa propria oppure direttamente nel negozio dei vestiti ragazzi quello che dovete fare è mettere parti superiori ovviamente e mettere maglie dovete mettere maglie e mettete maglia dolce vita nero come al solito ragazzi lo sapete una volta fatto una volta che vedete che manco c'è bisogno che cambiate il completo del giubbotto andate su completi del completo una volta fatto come vedete il completo è baggato molto bello guardate che bello ragazzi non funzioni in alcuni abiti ovviamente ma molto bello lo stesso ragazzi guardate qui bello guardate io ho scelto questo leopardato ragazzi spero che vi piaccia una volta che ammettete questo abito mettete pure il il completo quello leopardato se riuscito a trovarlo ovviamente eccolo qua leopardato una volta fatto ragazzi mettete mettete inventario se volete abbinare un accessorio o il rail brake o il visore notturno una volta fatto ragazzi andate qui nel binocolo e dovete correre così ragazzi levati giovanni una volta che si fa niente ragazzi non si fa perché una volta dovete correre velocemente ragazzi non riesce sempre al primo tentativo ovviamente una volta fatto vedete mettete subito accessori e mettete casco mettetevi il casco ovviamente quello nero una volta fatto correte e come vedete si è pagato molto bello il completo ragazzi ragazzi da qui toni rosa nero è tutto iscrivetevi al canale ve lo metto sempre qua sotto in descrizione e vi lascio alcuni link di altri canali ragazzi iscrivetevi e spolliciate per questo bellissimo completo da qui toni rosa nero è tutto noi ci vediamo a un prossimo video ciao a tutti ragazzi